amiche e amici appassionati di moto e di moto mondiale torna quella volta che la rubrica per rivivere ripercorrere un evento un campionato un episodio un personaggio che ho avuto la fortuna di vivere dal vivo dal bordo pista dalla sala stampa insomma da qualsiasi posto dal paddock comunque lì da lì da lì dal dal posto allora tutto è nato da un post di kevin vance che adesso vi vi mostro voi nel podcast non lo potete vedere ma ve lo leggo ecco kevin spaz kevin vance dice un grandissimo grazie ad aldo e alla zudi performance per aver disegnato questo speciale logo che ricorda il trentesimo anniversario del mio titolo mondiale nella classe 500 ecco allora mi è sembrato giusto dedicare questa puntata di quella volta che a kevin spaz siamo alla vigilia del gran premio degli stati uniti quindi a ostin proprio casa di kevin spaz e allora il mio ospite è proprio colui che ha disegnato questo logo aldo drudi buongiorno aldo ciao ciao a tutti ciao buongiorno allora ciao aldo devo dire che mi ha emozionato un po a me vedere questo post di kevin spaz insomma questo logo i trent'anni insomma è un episodio che per noi appassionati è molto significativo allora vorrei aldo che tu ci raccontassi un po come è nato questo logo e poi com'è kevin spaz e tu lo conosci benissimo sai benissimo chi è che che persona è se ce lo racconti un po certo allora questo luogo nasce l'hai appena detto no per i trent'anni è un logo realizzata apposta per questo anniversario speciale perché e noi naturalmente siamo stati contentissimi di aver avuto l'incarico di realizzarlo perché è un po quello che mi ha sdoganato a livello internazionale no perché fino a quegli anni la io lavoravo tanto con i piloti italiani con qualche pilota spagnolo ma il grosso lo facevano sugli italiani c'era il rezzo c'era c'erano viaggi c'era capirossi c'erano tutti i ragazzi ai tempi giovanissimi un po più giovani di me kevin più o meno più o meno giravamo su quell'età è comunque più giovane di me ma era un coetano no per me ed era comunque una grande star fu rezzani loris che in occasione di una non so se se tu ricordi tu sei giovane quindi probabilmente l'avrei sentito parlare solamente parlare ma passiamo una riunione a divinio appena prima del natale con tutti i piloti dal moto mondiale per caso gli amici di livinio dove andavo a sciare io ogni tanto mi dissero ma perché non porti su un po di piloti cominciai con con casoli e con e con il rezzo e poi questa cosa se ingrandita macchia d'olio veniva su mezzo paddock italiano fino a che fino a che il dottor costa veniva su red ronni veniva a fare l'animazione la sera penso un po fino a che il rezzo mi disse guarda che c'è sfarsi in europa d'inverno strano era in austria provo a chiamarlo se mi dici che se postino te gli ho detto ma magari proviamo un po scusami aldo di che anno parliamo più o meno ostia lui disse nel 93 mondiale quindi ti direi 91 inverno 91 al massimo 92 quindi che lori spese questa chiamata e che rin assettò immediatamente che se organizzano anche in una maniera un po un'ambolica addirittura mandarono un elicottero non so dove a prenderlo per portarlo a divinio lui va pochissimi giorni ma avere lui a questa reunion invernale era fiore all'occhiello per gli vignaschi e così fu e lo con obili un pazzo scatenato livello di di follia altissimo divertentissimo in due minuti come dire ha preso il ritmo degli italiani perché lui era sì tex e tex sano ma ha uno spirito latino dentro no è anche stato apprezzato dai tifosi proprio per questo suo modo caliente no passami termine di di affrontare i gran premi e da lì è iniziata è iniziata questa avventura assieme a kevin che tuttora è un amico un amico di famiglia e in una diretta con paolo beltramo non ricordo da quale il circuito salutò mia mamma in diretta ciao mamma drudi disse perché andava a mangiare sempre a casa di me anche quando io non c'ero capitava lì parlando solamente inglese mio mamma e mia mamma italiano e romagnolo eppure andava che meraviglia che meraviglia ecco poi dopo andiamo un attimo a parlare meglio di kevin ricordo che kevin schmanza è nato il diciannove giugno nel millenovecentosessanta quattro in quell'anno lì nel novantatré ha vinto il mondiale grazie a quattro vittorie tre secondi posti e quattro terzi posti e fino alla al gran premio di gran bretagna gran premio di donnington che fu in qualche maniera un gran premio incredibile dopo aldo ce lo racconta meglio perché se lo ricorda sicuramente bene e schmanza era arrivato davanti a rene che dal suo avversario sei volte contro le tre volte di rene quindi nei nove in nove gran premi avevano fatto sei a tre quell'anno i gran premi furono 14 poi purtroppo ci fu l'episodio di misano quando rene cadde quella che oggi è l'ultima curva allora era la prima curva perché il circuito girava al contrario e purtroppo rimase paralizzato e poi a quel punto per cavi fans fu relativamente facile vincere il titolo mondiale e schmanz vinse con 248 punti contro i 214 di renei naturalmente aldo non me lo ricordo memoria ma me lo sono scritto perché se no ciao allora però insomma quello fu un campionato incredibile cari schmanza andava fortissimo con la suzuki e ci fu quell'episodio di donnington che fu in qualche maniera decisivo per il campionato di schmanzer te lo ricordi aldo decisamente me lo ricordo perché successe che alla fine di quel campionato sai dualismo in quegli anni era proprio schmanz e renei no e quindi gli spalti erano divisi in due forse kevin aveva un po più tifosi perché era così un po guascone un po più un po più di fantasia quindi i tifosi quelli più colorati e coloriti apprezzavano di più lo stile di kevin ma ricordo che i detrattori alla fine di quella stagione eccezionale per kevin dissero che aveva vinto perché purtroppo a renei capitò questo brutto incidente a visano che non gli permise di 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 proseguire il campionato la verità è che già a donnington pista tra l'altro favorevole a kevin dove aveva assegnato una pole position clamorosa adesso non ricordo ma ma mi sembra avesse dato tanto tanto al secondo ricordo che al pronti via ci fu questo strike di di dohan che che ne stese credo due o tre compreso cadalora mi sembra e e kevin fu coinvolto e non riuscì a raggranellare questi punti pesanti che sicuramente sarebbero stati quelli di una vittoria no e e quindi oltre ai risultati che hai dato ci sarebbe stata una vittoria in più è ancora un gap maggiore di punti probabilmente sarebbero arrivati a misano con quasi un gap incolmabile o addirittura forse kevin avrebbe vinta con 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 anticipo però devo anche aggiungere a difesa di kevin non ha bisogno di difese né kevin né reni altro grandissimo grandioso campione la loro storia si fonde e tuttora sì c'è una relazione importante di amicizia tra kevin e reni che è nata dopo la fine delle delle ostilità e come capita spesso no i peggio nemici in pista poi si ritrovano nei ricordi e nelle no di queste di queste giornate gloriose di battaglia perché alla fine loro si sfidarono sempre nei limiti della correttezza si stavano antipatici ma questo questo succede il motociclismo è così forse è uno degli ingredienti no quello sì 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 e allora volevo aggiungere che oltre a questo campionato eccezionale bisogna tener conto che kevin fece delle scelte e me venne contattato più volte dalle altre case per portarlo per rubarlo da suzuki che ai tempi era una buona moto ma non era una moto eccezionale ai tempi c'era la onda che che la faceva da padrone aveva messo davanti un sacco di piloti era il momento di duan e chi saliva su un'onda andava forte e che lì per correttezza verso suzuki e non accettò mai di cambiare marca fu un pilota che rimase fedele alla casa se quello che era possibile di se probabilmente su una onda avrebbe questo a quest'ora più mondiali nel suo palmarès però lui è tranquillo mi ha sempre detto che questa cosa era proud no come dicono loro di quel di questo attenzione orgoglioso di chi gli aveva dato modo di correre a quei livelli lo pezzi anche ti racconto quest'altro aneddoto per quanto riguarda la tuta lui a tutte casco casco ha sempre avuto una rai in testa e e a lui piaceva sapere che dietro al marchio c'era una famiglia c'era signor mi sarai al quale stringere la mano un mezzorno però mi disse io ai tempi disegnavo per dainese mi disse saldo guarda devo cambiare tuta vorrei passare puoi parlare con dainese io ho detto certo che posso loro ti proporranno un contratto sicuramente quindi il prossimo anno lui mi disse no no adesso subito quindi col campionato in svolgimento lui dopo qualche gara mi sembra prima di zero dopo le prime gare che i tempi erano comunque fuori fuori europa mi chiese questo passaggio e però puntualizzò e mi disse guarda io sono molto legato alla cusitani perché dietro c'è la famiglia solo che loro mi stanno dicendo che non hanno più l'economia per passami il termine per mettersi kevin schwanz e quindi questi signori giapponesi titolari dell'azienda gli hanno lo hanno lasciato libero lui ha detto io non li avrei mai lasciati per i soldi a questo punto mi invitano loro a come dire ad andare avanti nella mia strada da professionista e dainese naturalmente è l'azienda di riferimento parla con lino dainese io lo pensi e da lì partì una storia bellissima di collaborazione di sviluppo di prodotto con kevin e ricordo la pagina della gazzetta dello sport che che realizzai io facciamo una fotografia in studio con kevin che abbracciava letteralmente abbracciava il paraschiena che venivano forniti da dainese ai piloti fu lino no a studiare il primo paraschiena protettivo e lo abbracciava con affetto come per dire la sicurezza per noi importante lui era lorso nudo con e abbracciava questo questo paraschiena e quindi lui è sempre stato uno molto corretto e avrebbe vinto e probabilmente anche guadagnato di più se fosse stato un po più sgamato come diciamo in romagna sì aldo sai che ad esempio nel calcio si parla tanto nord di bandiere io mi ricordo il mio paolo maldini del mio milan naturalmente mio è ironico oppure che ne so totti con la roma eh ci sono stati questi campionissimi che si identificavano con una squadra ecco nel motociclismo c'è 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 rei Nicola Yamaha forse Agostini con l'MV ma poi comunque anche lui ha cambiato ecco c'è proprio uno dei pochissimi esempi è bellissima questa storia secondo me certo e poi tieni conto che eravamo già avanti nella storia del motociclismo no perché una volta i legami erano più stretti più lunghi non negli anni invece guarda adesso i piloti saltano da una moto all'altra da un anno all'altro per poi ritornare indietro e andare avanti quindi eh sì i tempi sono cambiati ma Kevin è stato l'ultimo eh vero personaggio apprezzato come pilota ma anche legato fortemente a a a Suzuki e infatti è come dire è ambasciatore a vita di di Suzuki e e appunto questo evento di Assen che che l'anniversario dei trent'anni lo vedrà credo pilotare di nuovo una Suzuki in grande spolvere stiamo anche pensando di scusami vai vai no no vai 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 stavamo pensando di realizzare anche con Arai un'edizione una sorta di lifestyle o comunque il nuovo casco di Kevin perché c'è grandissima richiesta ci sono dei caschi intramontabili parlando appunto di grandi miti del motociclismo il tricolore di Ago è un casco che può essere riprodotto eh anche quest'anno il 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 casco nero con le punte di Firrid te lo ricordi forse il più bel casco che esista semplicissimo con le tre linee eh delle tre punte bianche oppure Kevin oppure Mick Dohan pensa che Mick Dohan e Kevin che tra l'altro ho avuto la fortuna di lavorare con 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 tutte e due e e di dividere con loro questo record sono i caschi che hanno venduto più replica al mondo ad oggi il casco di Kevin e il casco di di Mick sono più o meno a pari merito e non certo per merito mio no 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 anche per anche per merito di Alduccio The Dream ascolta Alduccio allora raccontaci un po' Kevin attraverso il suo meraviglioso casco ma allora in quegli anni ehm i colori eh c'era stato l'avvento anche sì io mi ero lanciato con Dainese a a colorare queste tute e e da giovane motociclista si buttavo dentro tutti i colori che che a me pensavano di più eh ai tempi arrivarono i colori fluo che prima non si erano le grafiche erano già un po' più lavorate c'era Shoel che cominciava a lavorare era tutto abbastanza eh rispetto a quello che facciamo adesso ancora tanto basico ma ancora prima c'era il tricolore di Agostini e al massimo come ti dicevo il casco di Rick eh però eh guarda te lo mostro molto semplicemente questo è il casco di Kevin quando vinse il mondiale vedi che per i tempi era rivoluzionario ma se lo vedi adesso è abbastanza betusto come come linee no? Questo qua invece è già un restyling e lo vedi già più aggressivo un po' più complesso un po' più lanciato di qualche anno fa ehm che cosa ha come caratteristica questo casco è questo flash zallo ai tempi il zallo non era il colore di nessuno eh lo aveva avuto e e e e lì io ero rimasto colpito Kenny Roberts che era questo pilota fantastico che arrivava dall'America a correre la 200 miglia di Imola organizzata dal padre di del dottor Costa da Checco Costa che invitava i piloti da tutto il mondo a a correre la 200 miglia e lui aveva una livrea della Yamaha America zalla nera e bianca il casco era zallo nera e bianco con delle acque quando smise di correre Kenny eh il zallo rimase in balia era un colore che per qualche anno nessuno aveva aveva fatto suo e quando eh Kevin dopo questo incontro casuale di Livigno conoscendoci frequentandoci vide il mio casco mi diceva ma perché non mi fai un casco io gli feci due proposte eh accordandomi però in quel in questo modo gli dissi io te ne disegno anche di essi i caschi finché non arriviamo a quello che 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 ti che ti piacerà indossare però o lavori con me o io cioè o divento designer di Kevin Svans oppure non partiamo neanche e ricordo che eh il padre di Kevin si mi disse ma no ma guarda che non funziona così tu fai il tuo poi lo compareremo e gli ho detto no no in Italia funziona così o con noi o contro di noi perché in America c'era Troy Lee che questo altro designer famoso eh ed era io 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 entravo in competizione con lui eh però non mi è mai piaciuto fare dei disegni a Vangora a Vangora prima ho aspettato che mi desse l'incarico e comunque Kevin decise di fare così a quel punto ehm dovevo decidere di scioccarlo e m siccome c'era questo giallo che nel frattempo era diventato fluo erano arrivati questi colori in caratteria eh fluorescenti molto brillanti decisi di recuperare il giallo e lo misi come vedete qua davanti alla fine ci sono eh gli scacchi della bandiera eh della circuit flag dell'arrivo no la bandiera texana quindi niente di che ben miscelati i colori sono quelli di allora bianco rosso e nero insomma ma quando poi Kevin eh sfilando in curva presentava eh la 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 parte posteriore del casco c'era questa botta di disallo che ai tempi era come dire una grande novità ripeto immaginati il casco nero di di Reed con tre punte quello era adesso lo apprezziamo perché è un classicone ma ai tempi avevamo bisogno di dargli un po' la botta e e questa appunto era e lui e Alde lui quando lo vide cosa disse? Ah lui rimase subito impressionante ne avevo fatti due uno col flash sopra e uno dietro quando vide quello col flash sopra sullo fronte mi ha detto this is a little bit too much mi ha detto un po' troppo questo qui partiamo con quella con quella dietro e da lì è partita una amicizia ancora prima di 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 un rapporto di lavoro perché Kevin poi come ti dicevo ha frequentato cattolica il club nautico ha conosciuto tutti i miei amici che ancora lo aspettano e ogni tanto viene a trovarsi per il piacere di di stare con noi ne abbiamo fatte diverse insomma di 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 cotta e di cruda Aldo lui è è proprio un casinista o no? Il numero uno non si è mai tirato indietro con niente eravamo arrivati addirittura pensa a a fare scina autico perché noi gli avevamo avevamo invaso una colonia una ex colonia decrepita in si stava accadendo a pezzi l'avevamo invasa con tutti gli amici che i tempi facevano sera e si costruivano le tavole le tavole da set con la vetro resina tanto che il primo prototipo di protezione per per la gamba per lo stinco dei motociclisti che ancora è accessorio delle tute di Dainese l'abbiamo fatto lì con un mio amico surfista biso con lino Dainese che in passiva vedere questi ragazzi che si davano da fare mi hanno fasciato una gamba con del cello per mi hanno steso la resina sulla gamba senza tener conto che catalizzando la resina diventa calvissima mi sono mezzo e stionato una gamba e io facevo dei salti e lì facevamo scina autico io ai tempi correvo con le moto d'acqua la moto d'acqua che mi regalò l'uchinelli cambio merci su zuki tra l'altro e mi allenavo la sera davanti al club nautico all'interno delle scogliere e quando arrivavano i piloti del moto mondiale li invitavamo lì se la passa parola e facciamo delle cose incredibili adesso se adesso ti legano ti vengono a prendere con l'elicottero se fai e ricordo che una volta tentammo di fare sci nautico ai presenti i tavolini quelli da bar tondi d'alluminio perché avevamo provato a sciar con tutto abbiamo tentato anche con quello in due tenevano lo sciatore già a pelo d'acqua perché sennò non avrebbe mai tornato quindi gli davano un lancio e quando veniva dato via con la moto d'acqua si partiva c'era un primo strappo così e poi si sciavano anche Kevin ha fatto sta cosa sempre sempre rischiando di farsi del gran male perché c'era poco fondo le scogliere non si è mai mai tirati indietro che grande ecco alde tornando insomma ai 30 anni dal titolo mondiale tu che ricordo hai non so dei festeggiamenti come ha vissuto kevish vance quel titolo a lui intanto quel giorno si sapeva di un incidente grave ma non si sapeva quanto grave quando direi di certo perché ti garantisco che anche se in quel momento era il suo davvero nemico acerrimo però kevin la chiudeva in pista non era una cosa che quindi sapere che un pilota si era fatto male e quel pomeriggio non sapevamo quanto si fosse fatto male reni sarebbe stato un problema ricordo invece i festeggiamenti legittimi il paddock fu invaso dai dai tifosi di kevin perché io lo paragono a valentino cioè come popolarità in giro per il mondo io frequentato le piste e spesso e volentieri lo sai no si va fuori a cena con con i piloti con valentino così come facevo con con kevin e il pubblico era quello se vedevano passare kevin era come adesso vedere passare valentino non si riuscivano a fare venti passi senza che arrivasse qualcuno per una foto per un autografo il tutto però non era così enfatizzato dai 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 media di adesso insomma dalla dalla rete quindi io paragonerei kevin fans al valentino rossi di 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 qualche anno fa quando correva un grande fenomeno a livello mediatico quel giorno lì ci fu una sorta di invasione nel paddock il paddock si bloccò e lui si rifugiò nel nel racing service di dainese che avevamo allestito era un po casa sua spesso veniva mazzali e si nascose nel nell'ufficetto che avevamo e ricordo che dovemmo chiamare quelli della suzuki arrivò un camioncino della suzuki sul vetro del camion e kevin si dovette dovette scavalcare una finestra per scendere dalla parte opposta perché di fronte sarebbe stato aggredito aggredito bonariamente dai tifosi non c'era modo di uscire da misano quindi se non sbaglio lo caricarono su una camionetta dei carabinieri per portarlo fuori e portarlo in albergo perché aspettavano tutti lui poi arrivò la notizia di di renei e della gravità dell'incidente che macchiò un po quella festa insomma lui dispiace che intanto che un suo compagno si fosse fatto male ma questo ve lo garantisco e poi dispiace anche che qualcuno insinuò che quel campionato forse non era stato guadagnato in pista ecco aldo siamo in chiusura ti chiedo una cosa che io non so non so se la sai tu il 34 famoso numero di kevish vans è stato ritirato perché kevish vans naturalmente è diventato una leggenda tu sai perché correva col 34 io ammetto di non saperlo non sono sicurissimo ma credo fosse il numero di zin di suo padre è vero è vero numero di famiglia di sano sì è vero è vero era era esattamente così amiche e amici appassionati di moto e di moto mondiale quella volta che finisce qui abbiamo ripercorso un personaggio straordinario kevish vans attraverso i suoi caschi e attraverso questo logo meraviglioso disegnato da aldo drudi così come i suoi caschi logo che kevish vans ha promosso in qualche maniera sui sui social io ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto e vi do appuntamento a settimana prossima e ringrazio tantissimo il mio ospite aldo aldo drudi tra per grazie aldo ciao 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 ciao